Oggi non mi va di essere ironico, oggi sono incazzato e basta. E vi spiego anche il perché. Ieri sera la comunità europea, l'Eurogruppo, non è riuscita a varare gli euro-bond, ribattezzati, visto il periodo drammatico che stiamo attraversando, corona-bond, che sarebbero una sorta di finanziamento, di prestito nei confronti dei paesi che più ne hanno bisogno, un prestito però garantito da tutti i paesi della comunità europea, anche per dare un senso alla parola comunità. Bene, a dire di no, sono stati, tra l'altro gli euro-bond erano stati auspicati recentemente anche dal nostro, questo è un orgoglio nazionale, genio Mario Draghi, nei confronti del quale l'Alagard è una, come dire, è una, vabbè non faccio paragoni per bontà, per compassione nei suoi confronti. Dicevo, hanno detto di no, alcuni paesi del nord dell'Europa, della comunità europea e dell'est non c'è da stupirsi, ma anche e soprattutto i tedeschi. Allora, io vorrei un attimo ricordare come hanno inciso i tedeschi sulla storia degli ultimi cento anni. I tedeschi hanno provocato la prima guerra mondiale, i tedeschi hanno provocato la seconda guerra mondiale, i tedeschi hanno sterminato sei milioni di ebrei nelle camere a gas, e i tedeschi ancora oggi hanno questa loro arroganza spietata, oggi in termini economici, ma sempre quello che riconsiderassi una razza superiore. Quel criminale con i baffetti, diceva Ariani, ecco, ancora oggi si sentono superiori, non possono cedere il prestito nei confronti dei poveracci per carità. Allora, oltretutto, se poi si considera il fatto che, come pare ormai accertato, il paziente zero di questo maledetto coronavirus è un tedesco, e lì veramente i coglioni girano proprio in maniera vorticosa, allora io vorrei ricordare ai tedeschi una cosa. Appena finita la seconda guerra mondiale, la comunità internazionale, se avesse ragionato con questa loro incredibile e ciclica arroganza, e non invece con la pietas umana con la quale ragionò, e avesse richiesto gli effettivi danni di guerra ai tedeschi, oggi i tedeschi vivrebbero tutti nelle bidonville. Riflettiamo su questa cosa. Quindi, grazie a Dio, sono italiano, sì, saremo cialtroni, saremo anche mafiossi, come dicono i tedeschi, ma siamo empatici, siamo umani. Quindi, grazie, grazie di essere italiani e non tedeschi.